roccella ha concluso il ferragosto con un'iniziativa che ha visto una partecipazione popolare straordinaria stiamo parlando del tuffo più lungo del mondo si tratta di 2,750 chilometri un record assoluto per la cittadina ionica praticamente gran parte del litorale è stata caratterizzata da un tuffo ad onda magistralmente coordinato all'amministrazione comunale e dalla capitoliera di porto di roccella che con il preziosissimo aiuto delle sue motovedette ha dato il via a quello che è stato il tuffo di massa lo stesso primo cittadino vittorio zito dice sembrava impossibile è stato bellissimo grazie alle migliaia di persone che lo hanno reso possibile è un ringraziamento ovviamente va fatto a fausto certo ma leader e padrone di calabria fit walking che è stato uno straordinario e insostituibile direttore coordinando un po tutto dunque il tuffo più lungo del mondo è stata la attrattiva di ferragosto che ha concluso la due giorni di notte bianca che come da tradizione è ripartita quest'anno dopo un fermo dovuto al covid appuntamento allora al prossimo anno